Cari lettori la novità letteraria che sto per presentare è un romanzo sulla storia di un uomo di successo che desidera fortemente formare una famiglia. La sua vita sembra essere sulla strada giusta, ma tutto cambia quando un evento inaspettato scuote le sue certezze. La trama del libro mette in luce le sfide e le difficoltà che la vita può presentare, spingendo il protagonista a confrontarsi con se stesso e con i suoi cambiamenti. Il libro ci fa riflettere sul significato del cambiamento, della resilienza e della capacità di adattarsi alle situazioni impreviste della vita. La sua evoluzione e il modo in cui affronta i cambiamenti possono risultare ispiranti per i lettori, spingendoli a confrontarsi con i propri momenti di vulnerabilità e a cercare la forza per superare gli ostacoli. La trama del libro La signora Lorenz della scrittrice Benedetta Andreini, pubblicato dalla casa editrice Gruppo Albatros Il Filo. Andrew Lorenz è un uomo forte, affascinante, di successo, e alla soglia dei quarant'anni desidera fortemente avere una famiglia. La sua vita sembra aver preso il sentiero giusto, le soddisfazioni non mancano, fino a quando un evento inaspettato fa saltare le sue certezze, e allora che fare? Abbandonarsi all'inerzia o trovare degli appigli per reagire? A volte scoprirsi diversi, fragili, può travolgere tutto, ma costruire anziché distruggere può far cambiare la prospettiva. E la signora Lorenz come reagisce ai propri cambiamenti e a quelli di Andy? Grazie per l'attenzione e buona lettura. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi della trama del libro presentato, se hai voglia di condividere il tuo pensiero lasciami un messaggio. Celebra la magia della lettura condividendo questo video e aiutami a diffondere l'amore per i libri. A te non costa nulla, per me sarebbe un bel gesto di gratitudine. Ricorda, ogni piccolo gesto può fare la differenza. Per non perdere le novità letterarie iscriviti al canale.